Sofferente in ritardo rispetto al resto del paese, in condizione di regresso rispetto al passato, la situazione è di stallo e alimenta la sfiducia nel ceto produttivo, è il commento del consigliere regionale Napoli alla fotografia scattata all'economia lucana da Banca Italia, annualmente impegnata a ritrarre dinamiche e congiunture delle singole realtà regionali. Per l'esponente PDL è necessario affrontare le debolezze strutturali, non con soluzioni tampone, abbandonare la logica della polverizzazione delle risorse, concentrare le energie per affermare le migliori vocazioni del territorio, categorico l'imperativo, farsi trovare pronti per adempiere alle indicazioni che il nuovo governo nazionale, obtortocollo, imporrà. Il dito è puntato contro la giunta regionale, incapace, secondo Napoli, di azioni politiche adeguate alle esigenze del territorio e a sostenere il sistema produttivo, secondo le direttrici del mercato. Il rischio da scongiurare e giungere ancora una volta in ritardo all'appuntamento con la crescita, l'invito è ad andare al nocciolo della questione, avere le idee chiare.